Fiumi e fossati colmi, acqua all'altezza delle strade nei punti già notti per essere i più critici, a cominciare da Silea, carreggiate e allagate in un'area di campagna di Villorba, un ristorante sott'acqua per l'ennesima volta a Gorgo al Monticano. Le piogge abbondanti delle ultime ore hanno messo sotto stress punti già delicati della rete idraulica del territorio. Che ha piovuto tanto in poco tempo e siccome qui la strada si abbassa c'è stata l'acqua che affiorava, avevo la strada allagata, tutto dietro che sta allagato e adesso vedi che a poco a poco se ne va insomma. Via Centole, via Vascon, via Codette a Lancenigo l'acqua ha causato allagamenti diffusi in particolare lungo quest'ultima che è stata chiusa al traffico. Due auto in questo tratto sono rimaste bloccate, sul posto la protezione civile e la polizia locale, con il sindaco di Villorba, Francesco Soligo, che ha aperto il COC, il centro operativo comunale, dando disposizioni perché venga eseguita una manutenzione urgente del fossato, che non è stato in grado di ricevere e far defluire l'acqua. A Silea, in via Macello, lungo il Melma, sono ricomparsi i sacchi di sabbia, livello del fiume poco sotto i 2,30 metri e massima attenzione, senza però conseguenze significative. Meno bene è andata a Gorgo al Monticano, all'osteria alta quota lungo la Postumia, allagata per la terza volta in un anno. Sappiamo che c'è stata una precipitazione molto forte, però ci siamo allagati completamente, abbiamo allagata sia la sala con il pavimento in parquet, che la cantina dove abbiamo il magazzino, abbiamo tutte le attrezzature e quant'altro. Nella cantina c'erano circa 7-8 centimetri di acqua. Il locale è sia sotto il livello della strada che gli edifici vicini e proprio dalla statale, dal parcheggio e dall'area residenziale l'acqua scendeva verso l'osteria. Qui per terra c'erano circa 20 centimetri d'acqua, l'acqua non defluiva, cioè defluiva ma defluiva pian pianino. Martedì scorso il Comune ha fatto un intervento di pulizia di tutti i pozzetti e tutto quanto e in teoria dovrebbe essere a posto. Il problema è che chiamando il Comune, chiamando il Genio Civile, chiamando il Consorzio di Bonifica, nessuno mi sa dare una risposta di quale sia la soluzione. Il ristorante è rimasto chiuso per buona parte della mattinata, aprendo solo verso ora di pranzo. Qui siamo nella cantina, diciamo il magazzino dove noi teniamo tutte le bibite e quant'altro. E nel pavimento si vede che sta ancora uscendo dell'acqua pur avendo asciugato da questa mattina ed è aperto qua. C'era tanta acqua così stamattina qui dentro, perciò... Non possiamo vivere nell'incubo di finire sott'acqua ogni volta che piove, conclude Nardin. I pompieri questa mattina mi hanno suggerito di mettere una pompa nel nostro pozzetto per far defluire l'acqua. Ma io non posso permettermi di buttare l'acqua nel Monticano perché penso sia vietata. Io sinceramente chiedo che qualcuno sia attivi per poter risolvere questo problema. In qualche modo bisogna trovare una soluzione.